Bene amici, se mi seguite saprete che nell'ultimo periodo ho provato un sacco di conti, carte di debito, applicazioni per pagare in maniera smart 2.0, veloce, semplice, applicazioni, insomma vanno un po' a scardinare quel vecchio mondo bancario, ma sono tutte applicazioni, conti, carte per l'utenza privata. Io mi sono trovato benissimo ma io sono anche libro professionista e ho una società e allora mi sono chiesto se ci fosse un conto analogo proprio per liberi professionisti e società, quindi oggi vi parlo di conto con la Q che mi sembra sia proprio la trasposizione di quel mondo nuovo però per piccole imprese e professionisti. C'è il mese di prova gratuita, mi iscrivo e poi vi racconto. Si parte ovviamente con la mail, bisogna iscriversi dal pc perché se scaricate l'applicazione ovviamente poi ci sarà l'applicazione e vedremo che cosa si potrà fare con l'applicazione, vi dice che le possono aprire appunto professionisti e PMI, ma se cliccate su registrati vedete scrivete Italia vi rimanda al pc. Mi è arrivato il codice di conferma via mail? Vediamo subito. Sì il codice è arrivato, inserito e se siete una società ovviamente dovrete inserire la visura camerale, non antecedente i tre mesi. Ok dopo una ventina di minuti siamo alla scelta del piano più adatto, visto che è gratis faccio quello per ora premium, anche si può cambiare anche dopo. E la carta scelgo quella plus. Perché una ventina di minuti? Perché comunque ho dovuto inserire tutti i documenti di tutti i soci, la visura eccetera eccetera. La normativa è un pochino più complicata rispetto ad aprire un conto corrente di un privato, però ripeto, venti minuti. Ci pago il parcheggio a Linate. Tra l'altro un affarone, 6 euro due giorni. Purtroppo il 7 gennaio finirà la pacchia. Contactless, tutto ok. E poi un po' di spesa, di cancelleria alla metro, che è un supermercato per partite IVA. Vedo se si capisce dai formati minimo 10 risme. In, ok. Ma com'è Pinerrato? Eh magari il primo numero. Eh sì oggi mi hai dato Pinerrato perché mi ero dimenticato che lo avevo cambiato dall'applicazione. E per confermarlo sono dovuto passare da un bancomat a fare un prelievo. Potevo anche annullarlo prima di prelevare i soldi così da confermare solo il PIN. Poi mi servivano 20 euro e allora sono andato avanti. Comunque a ogni operazione arriva una notifica. Non male. Grazie mille. Ho bisogno di ricevuta. Sì e poi vado con la carta. Ok. Pinerrato. Ma com'è Pinerrato? Scusami arrivo. Ma figurati. Non voglio vedere se va perché stamattina avrà problemi col PIN ma poi dovrebbe aver risolto con l'assistenza clienti. Vediamo un po'. E ha funzionato. Questo perché nel frattempo ho contattato l'assistenza clienti tramite il form sull'applicazione. Dopo un quarto d'ora mi hanno risposto e mi hanno detto di disattivare. Poi successivamente riattivare tramite applicazione le funzionalità della carta. Così da fargli capire che avevo cambiato PIN e così ho fatto e ha funzionato. Ed eccoci qui con le conclusioni. Dopo aver usato un paio di settimane questo conto parto subito dal sito web, dalle tariffe. Ci sono tre pianetari fari, nove euro per avere un utente, una carta di debito fisica, più venti bonifici inclusi, ventinove euro standard, oppure la versione premium che vi dà utenti illimitati, cinque carte di debito, cinque carte di debito virtuale. Insomma qua vedete tutte le possibilità e niente magari andate sul sito per capire i costi. Io vi dico come mi sono trovato. Beh devo dire mi ha stupito l'assistenza. Tra l'altro c'è l'applicazione ovviamente si vi riconosce con Face ID. Mi sono trovato bene con l'assistenza perché guardate richiesta d'aiuto quando avevo il problema con il PIN che non me lo prendeva. Ho scritto ovviamente in italiano e dopo poco mi hanno risposto più o meno 10 minuti e un quarto d'ora. Sempre in italiano hanno verificato e mi hanno dato la soluzione. Questa cosa mi è piaciuta così come mi è piaciuto il fatto di avere qua sullo smartphone praticamente tutti i movimenti. Tra l'altro interessante che se abbiamo un movimento possiamo anche inserire non solo il giustificativo ma anche la percentuale di IVA. così da avere poi anche uno scorporo dell'IVA sulle transazioni. Magari un po' incasinato quando abbiamo delle transazioni con più percentuali di IVA ma comunque abbiamo un'idea di massima. Come vedete potete scansionare il giustificativo quindi anche per ricordarsi a futura memoria il pagamento è più semplice. e si possono nei vari movimenti aggiungere per esempio dei tag personalizzati oppure anche delle note. Il sistema automaticamente va ad aggregare le spese per tipologia. Per esempio vedete il parcheggio automaticamente me l'ha messo dentro la tipologia trasporti. Possiamo ovviamente cambiarla al volo se non è andato nella categoria giusta. C'è il saldo qua vedete subito visibile. Si possono andare a filtrare i movimenti per giustificativo o sì no per come abbiamo pagato se con carta di credito o con bonifico. Ovviamente si possono fare bonifici internazionali e vi faccio vedere anche qua nel mio conto. Andiamo a vedere se ho aperto. Eccolo qua. Bonifici. Quindi possiamo schiacciare sul nuovo bonifico singolo in euro, multiplo in euro oppure anche in valuta extra. Per quanto riguarda le carte qua abbiamo i movimenti. Io ho attivato una seconda carta virtuale anche qua in base al profilo tarifario che avete scelto. Avete la possibilità di avere una o più carte sia reali sia virtuali. Non c'è la possibilità di avere una carta di credito sono carte di debito quindi passerà il pagamento solamente se avete i soldi sul conto corrente. Vedete fisica o virtuale. Io per esempio ho inserito la virtuale su Amazon account business della società. L'ha presa tranquillamente e preferisco avere sparse online delle carte virtuali. La carta fisica può essere dall'applicazione o anche dal sito web bloccata temporaneamente. Si possono attivare o disattivare i prelievi di contanti, i pagamenti contactless oppure i pagamenti online. La cosa bella è se abbiamo un team possiamo vedere nell'applicazione o anche qua sul sito web le richieste di bonifico. Magari qualcuno, il vostro collaboratore, mette dentro le richieste di bonifico e voi la validate e gli date l'ok. Qua vedete Liban che è francese quindi inizia con FR però ho chiesto al mio commercialista e mi ha detto Andrea non ti preoccupare i conti correnti non è un problema se non hanno Liban italiano, se non sono in Italia, per esempio questo in Francia zero problemi da un punto di vista fiscale ovviamente basta dichiarare il tutto e anche se i conti fossero in valuta non ci sarebbero criticità e problemi. Allora può essere il conto principale? Vi dico subito secondo me no perché manca una serie di funzionalità che in Italia sono importanti. Per esempio il pagamento degli F24, l'incasso degli assegni, il pagamento di MAV, di RAV, capita per esempio che alcuni fornitori ci emettono dei pagamenti in questo senso non si possono ancora inserire, si possono fare degli addebiti ricorrenti, quello sì è possibile. E l'altra cosa che mi è piaciuta è la possibilità di scaricare in formato Excel o anche altri formati tutti i movimenti, ma soprattutto ci sono le API che consentono di automatizzare nel caso aveste un gestionale il flusso dal gestionale a banca e viceversa anche per un controllo incrociato. Sicuramente anche da un punto di vista business le fintech, le banche 2.0 stanno arrivando, avete visto ho aperto il conto molto velocemente, la gestione è molto smart, mi sarei aspettato qualche funzionalità in più che probabilmente arriverà e forse qualche costo in meno. Ma tutto sommato, ripeto, primo conto no, almeno nel mio caso, e vedo pochi professionisti o partitivi che potrebbero usare questo conto come unico e principale, ma come conto secondario, smart, veloce per i pagamenti, le carte, la gestione, sicuramente sì. Un saluto da andreagaleazzi.pmi.partiteiva. Ciao!